L'ospedale San Massimo di Penne resterà nosocomio no covid. Ad annunciarlo in una nota diramata nel pomeriggio di oggi il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri arriva così una risposta chiara e rassicurante alle molteplici preoccupazioni che negli ultimi giorni si stavano sollevando per quanto riguarda un possibile ritorno a covid hospital per il presidio ospedaliero dell'area Vestina. Ritengo che la questione possa già ritenersi chiusa, ha sottolineato il presidente Sospiri. Il San Massimo resta un ospedale no covid a far riflettere sulla decisione la circolazione della variante inglese del virus. Finora lontana da questa zona è dunque in questo momento irresponsabile importare casi dall'area metropolitana dove la variante circola con numeri preoccupanti. Nella scelta di salvaguardare il presidio ospedaliero c'è anche la strategia riorganizzativa presentata presso la sala consigliare del comune di Penne lo scorso mese di novembre. Infatti per il San Massimo è atteso per il mese aprile l'avvio dei lavori di ristrutturazione oltre ad un investimento in termini di personale e di strutture nella prospettiva che gli utenti si augurano al più presto di un suo ritorno ad ospedale di base con sede di pronto soccorso. Dunque, aggiunge Lorenzo Sospiri, oggi la struttura può sostenere in modo efficace Pescara che è un covid hospital nell'assorbire parte dell'utenza che deve svolgere prestazioni no covid e che possono essere dirottate nell'area Vestina anche per effettuare le proprie prestazioni con maggior tranquillità. Il problema, generato dal contemporaneo ricovero di un numero elevato di pazienti covid da Pescara, lo risolveremo nell'ambito del santo spirito senza la necessità di sporcare altri nosocomi del territorio. Dunque una scelta importante vista la precarietà già conclamata del San Massimo ma che a questo punto sia di monito per tutti i cittadini affinché collaborino osservando le regole per contrastare e contenere quanto più possibile ogni possibilità di contagio.